Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti. Mi chiamo Marisa, vivo nella città di Santo Andrè, vicino a San Paolo. Sono una studente del corso Vita. Dico ancora che lo sono perché anche alla fine del corso la meravigliosa insegnante Anna Paola continua a ensinarmi. Attraverso vari strumenti, tra cui programmi autentici italiani di incontri settimanali che promuove con studenti ed ex-studenti, con conversazioni su vari argomenti interessanti. Anna Paola è un'insegnante completa, attenta, efficiente, dedicata e molto divertente. È sempre felice. Appresso tantissimo questa persona fantastica e amorevole che risponde a tutte le domande, chiarisce i dubbi personalmente senza intermediare. È il suo grande differenziale questo. È una vera e cara amica. Voglio vivere presto in Italia e grazie al suo metodo di insegnamento mi sento sicura di comunicare con gli italiani. Vi raccomando a fare il corso Vita è il migliore. Buona fortuna. Saluti.